In occasione della giornata mondiale della non violenza, il 2 ottobre, il Comitato per i diritti umani, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, ha organizzato il convegno Filosofia Pacis, per proporre una lettura dell'enciclica papale Laudato Si in una prospettiva interculturale. Questo convegno sulla Laudato Si ha un'importanza straordinaria. Lo prova il fatto che sia stato promosso insieme dal Comitato per i diritti umani della Regione Piemonte e dal coordinamento interconfessionale, per dire che non possono essere rispettati i diritti umani se non c'è anche dialogo, pace religiosa, confronto e incontro. Quale confronto migliore, più serio e profondo che discutere e studiare insieme Laudato Si di Papa Francesco? La cosa migliore è iniziare un certo percorso, così confrontandoci in termini interculturali, interreligiosi, con un testo che nessuno oggi può permettersi di ignorare e che l'enciclica Laudato Si, cioè un testo che sta suscitando dibattito nel mondo, che è strettamente legato ovviamente a una figura, quella di Papa Francesco che si sta ponendo come leader morale, come dire, sotto certi aspetti del mondo intero. Allora, un confronto con questo testo ci è parso il modo migliore per, come dire, dare sostanza a questo percorso che sta iniziando. In occasione del convegno è stata allestita presso la biblioteca la mostra I Cristiani, la minoranza più perseguitata del mondo, realizzata dal CESNUR con il sostegno del Comitato e ospitata fino al 9 ottobre alla Biblioteca della Regione. Grazie al sostegno del Consiglio regionale e del Comitato Diritti Umani sono riuscito a curare una mostra che avevo in mente da molti anni, che mostra l'enorme estensione delle persecuzioni contro i cristiani. Naturalmente i cristiani non sono gli unici nel mondo a essere perseguitati, ma se leghiamo con un filo tutte queste persecuzioni scopriamo che decine di migliaia di cristiani oggi patiscono la persecuzione. Ecco, questa è una piccola testimonianza e far vedere anche con la forza delle immagini la gravità del problema darà un contributo ad una situazione grave che chiede a tutti di non tacere.